Il mancato riscatto di Milik da parte della Juventus ha acceso i riflettori sul futuro del polacco, primo obiettivo della Lazio per il ruolo vice d'immobile. L'Otito vuole accontentare Maurizio Sarri con un primo contatto con il Marsiglia dopo aver incassato l'ok del polacco al trasferimento. Il padron vorrebbe uno sconto rispetto ai 12 milioni di euro richiesti dal club francese. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!